Grazie a tutti. Un ospite del CNR IREA, Claudia Giardino. Buongiorno Claudia. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi sono con i miei colleghi Giuseppe Maldera e Gigi Agrimano. Ciao Massimo. Buongiorno ragazzi. Insieme agli ospiti di oggi entreremo ancora più nel vivo dell'utilizzo di questi dati per applicazioni di vario tipo che Claudia Giardino ci presenterà e poi cominceremo a toccare un po' più con mano gli strumenti software che sono disponibili oggi per lavorare con questi dati. Quindi con l'aiuto di Gigi Agrimano guarderemo Earthbit nell'ultima versione e con Gigi Agrimano vedremo come usare questi dati in Earth Simaging potendoli quindi combinare anche con altre fonti informative. Io a questo punto passo direttamente la parola a Claudia Giardino che così ci può raccontare qualche esempio di applicazione nell'utilizzo dei dati i perspettrali della missione Prisma. Prego Claudia. Grazie Massimo. Di nuovo buongiorno a tutti. Allora io inizio a condividere lo schermo anticipandovi che nei prossimi minuti andrò a presentare le potenzialità di questo sensore che come avrete appreso anche dai collegamenti precedenti è molto potente e offre enorme potenzialità per sviluppare applicazioni nel comparto ambientale e territoriale. Come anticipato dai miei colleghi nei precedenti appuntamenti il sensore Prisma ha delle potenzialità per sviluppare molteplici applicazioni in ambito ambientale e per lo studio del territorio. Misurando infatti nel range spettrale dal visibile all'infrarosso vicino fino all'infrarosso d'onde corte permette di sviluppare applicazioni che riguardano lo studio della biosfera, dell'idrosfera o dell'atmosfera. Nei prossimi minuti farò una breve carrellata su applicazioni che riguardano la matrice acquatica, mare e laghi, la vegetazione agricola e la creosfera. In particolare in questa immagine raccolta da Prisma sul lago di Hume nel sud dell'Australia si evidenzia il comportamento spettrale delle sostanze organiche disciolte e sospese in acqua che manifestano appunto un comportamento molto univoco. Nelle lunghezze d'onda più corte si nota l'assorbimento dovuto a sostanze organiche a fitoplancton, si nota nelle lunghezze d'onde centrali le features di assorbimento tipiche delle ficocianine associate ad alghe potenzialmente tossiche, mentre nella parte d'onde più lunghe si nota il comportamento di elevata biomassa algale con anche il comportamento di materiale in superficie. Nella slide successiva invece ci sono due acquisizioni Prisma, una sull'estuario di Baglia Blanca in Argentina, un altro su un importante estuario nel Queensland a nord dell'Australia che mettono in evidenza le diverse tonalità presenti in corrispondenza dei fiumi quando entrano a mare. A sinistra è il forte apporto di solidi sospesi ad opera di questo importante estuario in Argentina, mentre nell'elaborazione dell'immagine in Australia attraverso una modellistica biottica siamo andati ad esplorare il comportamento spettrale per poi tramutare l'immagine Prisma in un prodotto informativo descrittivo del contenuto di clorofilla presente nelle acque marine come proxy del fitoplancton e quello che è il comportamento in acque otticamente poco profonde o con apporto di sedimenti ad opera dei fiumi. Le firme spettrali infatti di Prisma mettono in evidenza diverso comportamento dovute a questi macrosistemi. Questa è un'applicazione invece in ambito di creosfera, siamo in Groenlandia, dove il dato Prisma ha catturato un'immagine di copertura glaciale caratterizzata da coperture di neve cosiddetta sporca dovuta alle deposizioni di aerosol atmosferico sulla superficie glaciale. Un processo molto importante che può essere appunto ben studiato dalle caratteristiche iperspettrali di Prisma, fenomeno che va ad accelerare i processi di fusione del ghiaccio che portano anche alla formazione di piccoli laghi come mostrato sempre dall'immagine Prisma. Un'applicazione che i colleghi dell'Università di Milano Bicocca e del CNR ISP stanno mettendo appunto anche sull'arco alpino per valutare quelle che sono le deposizioni degli aerosol, in questo caso dell'aerosol provocato dal trasporto eolico del DAST del Sahara, sempre sulla superficie nevosa. Un processo che analogamente a quanto accade in Groenlandia sta accelerando i processi di fusione di questi importanti apparati glaciali. Mi piaceva concludere questa carrellata menzionando il recente festival Green Blue che si è svolto a Roma, dove nell'ambito del programma c'è stata una presentazione dedicata sia al sensore Prisma, il giorno 3 ottobre, sia un'altra presentazione il giorno seguente mirata a utilizzare e a presentare come la tecnologia satellitare possa aiutare a un'agricoltura sostenibile senza spreco d'acqua. Nell'ambito infatti di questa applicazione i colleghi hanno in qualche modo mostrato come le capacità di Prisma in una sequenza temporale del maggio del 2020 ha permesso di studiare mappe di vigore vegetativo attraverso l'IFA Area Index delle principali colture vernine di questa importante azienda agricola delle bonifiche ferraresi. Il sensore appena lanciato è effettivamente utile per sviluppare applicazioni e ne ho presentate solo un piccolo insieme e tutto a beneficio di quelle che sono le molteplici applicazioni di cui l'ambiente e il territorio ha sempre più necessità. Grazie. Grazie Claudia. No, sicuramente sono molto interessanti le applicazioni che hai mostrato perché fanno capire come la profondità dell'informazione dal punto di vista spettrale che viene offerta da Prisma sia determinante per discriminare gli elementi che venivano rappresentati sia nelle immagini che avete acquisito lungo le aree costiere sia quelle che avete preso sulle aree montuose. Molto interessante anche il discorso sull'aerosol e sull'impatto che sta avendo in generale sulle conseguenze. Sì, sì, su queste importanti risorse. Sì, effettivamente il dettaglio iperspettrale unico di Prisma permette appunto degli studi quantitativi su dei processi e dei parametri biogeofisici che con un'altra tecnologia è molto difficile e sono impossibile ottenere. Esatto, quindi grazie per questa cosa. Tra l'altro mi è piaciuto molto anche l'esempio che hai fatto su quell'analisi del vigore vegetativo perché nella slide citavi anche l'utilizzo delle tecniche di machine learning e sappiamo che naturalmente la risoluzione spettrale così alta in Prisma è un input preziosissimo per gli algoritmi automatici, no? Sì, sì, un algoritmo automatico che poi sostanzialmente mette alla luce il dato Prisma e lo rende operativo per appunto un utilizzo molto efficace nell'agricoltura e nelle pratiche agricole in generale, sì, sì. Questi algoritmi hanno questa capacità operativa veramente unica che ben si adattano a crisi. E soprattutto che, insomma, in presenza di dati così complessi da gestire è fondamentale l'apporto delle macchine, naturalmente sempre sotto la supervisione umana, per tirar fuori informazioni preziose da questi dati. E grazie, Claudia, per questo contributo. Proprio perché i dati della missione di Prisma sono dati complessi da gestire a causa o grazie al fatto che comunque sono dati in 240 bande spettrali. In Planetech, sin dall'inizio, abbiamo pensato di mettere a punto uno strumento software che potesse rendere più semplice possibile la consultazione di questi dati, la loro visualizzazione. E per questo abbiamo creato EarthBit. Quindi qui cedo la parola a Gigi che ha seguito questa attività sin dalla sua progettazione per poi arrivare ad avere lo strumento che oggi è disponibile per il download gratuito da parte di tutti gli utenti che seguono questi appuntamenti dell'Hyperspectral del Cafè. Grazie Massimo. Come hai detto tu, sin dall'inizio noi abbiamo verificato che il prodotto Prisma non è facilmente comprensibile soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questi prodotti e quindi abbiamo pensato di realizzare un software che tirasse fuori le informazioni fondamentali dal prodotto e desse una prospettiva, un'immagine, una fotografia immediata di tutte le bande di Prisma. Per cui abbiamo realizzato, utilizzando tecnologie commerciali come quelle delle GPU, un software capace di istantaneamente aprire e consultare le immagini. condivido lo schermo per fare una carrellata sulle funzionalità di Airbit e consiglio a chi si è iscritto e alla disponibilità del link di scaricare il software per utilizzarlo. Partiamo da un esempio semplice, quindi prendiamo un prodotto Prisma L2D, quindi un orto rettificato e già è possibile facendo il doppio clic sul prodotto aprire la nostra applicazione. Questa è l'ultima versione disponibile anche per gli utenti che l'hanno già scaricata. Il software carica ovviamente il cubo iverspettrale e anche il layer pan e costruisce al volo un RGB utilizzando le bande visibili del prodotto. La fornisce anche un overview sulle informazioni principali del prodotto, quindi gli angoli, il sun zentangle e il view zentangle del prodotto, quando è stato processato, quale versione del processore fa riferimento e il tempo di acquisizione. Se entriamo nello specifico possiamo quindi cliccare sul tab RGB e possiamo navigarlo, zoomarlo muovendoci liberamente utilizzando anche lo strumento qui a sinistra per muoverci rapidamente nella zona di interesse attraverso la quick look e abbiamo la possibilità anche di navigare anche l'immagine pan quindi la banda pancromatica più alta risoluzione visualizzando contemporaneamente la firma spettralica su un pixel ogni volta che io mi muovo con questa crocetta col cursore sull'immagine vedete bene abbiamo la possibilità di vedere le riflettanze a terra sia nel cubo del NIR che nel cubo SWIR semplicemente abilitando o disabilitando il tasto di spectral signature ovviamente questo vale per l'RGB identicamente. Interrompo solo per dire che stiamo dando un po' per scontato che i nostri utenti conoscano già ovviamente il significato degli acronimi che hai citato ne abbiamo già parlato negli episodi precedenti però ovviamente questo è uno dei vantaggi che offre Earthbit che possiamo sottolineare cioè il fatto che rende fruibile in maniera molto semplice e immediata le informazioni che sono contenute nelle diverse bande iperspettrali del dato prisma. Esatto. Come vedete sulla destra abbiamo la possibilità poi di visualizzare anche le singole bande del cubo ispezionando e guardando sia appunto la parte NIR del visibile del vicino infrarosso e la parte dello sguir infrarosso a onde corte cliccandoci sopra e navigando questo tab sulla destra possiamo passare da una banda all'altra e visualizzarla singolarmente. Quindi è sufficiente cliccare... È sufficiente cliccare e visualizzare le bande e poi navigare o col mouse o con le frecce sopra sotto per poter navigare le varie bande e ispezionarle singolarmente. Questo dà la possibilità di avere una vista d'insieme di tutte le bande del prodotto e di poter vedere anche il comportamento dell'immagine passando da una parte all'altra. Ovviamente non mancano per un software di questo tipo anche la possibilità di modificare anche la vista del prodotto e quindi anche intervenire sulla possibilità di modificare i livelli di qualità dell'immagine per poter migliorare la visibilità ma anche dare maggiore importanza a determinati dettagli. Essendo comunque un prodotto HDFEOS, quindi gerarchico l'utente è in grado comunque di poter ispezionare l'albero del prodotto andando ad esaminare tutti gli attributi del prodotto stesso quindi tutte le informazioni a corredo del prodotto sono qui disponibili. L'utente le può guardare può anche utilizzare un widget di plot per andare a verificare il grafico di quelli che sono gli attributi vettoriali del prodotto. È disponibile, come dicevo, nella navigazione appunto del pannello HDF tutta l'alberatura del prodotto con i suoi dataset e attributi. Gigi, tra le caratteristiche di questo strumento c'è anche la possibilità di esportare quello che poi ho visualizzato dopo che ho fatto le operazioni che hai mostrato tu di aggiustamento degli histogrammi, della luminosità posso poi fare un export? Al momento non è possibile Massimo però in effetti potrebbe essere una feature molto importante per l'utente e una delle prossime release sicuramente implementeremo un export almeno verso un formato JPEG delle varie bande. Credo che questa potrebbe essere una funzionità interessante e una di quelle che ci è stata richiesta già da alcuni nostri utenti. In fondo noi stiamo organizzando questo ciclo di webinar anche per raccogliere questo tipo di richieste e interesse da parte degli utenti. Visto che questo è uno strumento che permette molto facilmente come abbiamo visto di aprire i dati consultarli anche nella diversa composizione delle sue bande poter poi condividere facilmente questa informazione con chi ha voglia soltanto di guardare il dato nella sua bellezza grafica potrebbe essere utile. Va bene e quindi Gigi questo è sicuramente uno strumento molto utile per la visualizzazione dei dati. Naturalmente noi sappiamo che ogni tipologia di dato acquisito da satellite guadagna ancora più valore e rappresentatività se viene utilizzato in combinazione con altri dati. Per questo motivo abbiamo invitato anche Giuseppe Maldera. Giuseppe si occupa del supporto tecnico Pre-Sales per tutta la linea di prodotti di Hexagon Geospatial di cui in Planetech siamo i distributori sul territorio nazionale siamo anche il centro di supporto tecnico. E quindi Giuseppe quello che ti chiederei è di farci vedere come all'interno di uno strumento software come Erdase Imagine che ricordiamo è uno degli strumenti con la più lunga storia nel trattamento di dati acquisiti da satelliti per l'osservazione della Terra e quindi come all'interno di Erdase Imagine possiamo visualizzare i dati Prisma ma anche lavorarci in combinazione con altre fonti informative. Sì, grazie Massimo. Abbiamo sviluppato appunto un plugin per Erdase Imagine che daremo in modalità gratuita a tutte le persone e gli utenti che faranno richiesta. Questo plugin l'abbiamo costruito con l'idea di fornire uno strumento per un utilizzo operativo dei dati Prisma è uno strumento che permette sia agli utenti esperti di dati iperspettrali che ai meno esperti di estrarre indicatori e informazioni utili sul territorio a partire proprio dai dati Prisma. È sicuramente corretto quello che dici tu Massimo la possibilità di diffondere i dati Prisma con altri dati all'interno della suite Erdase fornisce ulteriori vantaggi. Volevo iniziare portandovi un esempio un'applicazione semplice che ho costruito in Erdase questa qui che vedete è un'elaborazione di un dato Prisma di livello L2D acquisito il 7 luglio scorso il 7 luglio 2020 in Puglia siamo verso Brindisi vicino al Salento. Quello che abbiamo fatto con il plugin è fare un import del dato quindi siamo partiti dal formato H5 che ha come sapete i due cubi Bunir e lo Swir abbiamo creato un unico dato un unico TIF che ha tutte le bande e abbiamo eseguito un pre-processing per rimuovere parte del rumore e ottimizzare quindi le informazioni che sono presenti in Prisma e infine abbiamo misurato la firma spettrale in alcune aree urbane. Usando questa firma spettrale quindi acquisita su delle aree urbane sull'immagine stessa abbiamo poi utilizzato un tool di address imaging che si chiama Material Mapping che permette di tirar fuori questo raster si va quindi dal blu al rosso quanto più il territorio è urbanizzato quindi è un raster che fornisce informazioni sulla probabilità che la firma spettrale di quel pixel sia simile a quella dell'urbanizzato che le abbiamo fornito. Vi faccio vedere anche un altro esempio di applicazione che cosa facciamo? Andiamo a fare un punch-sharpening rapido del dato prisma semplicemente per poterlo visualizzare. Giuseppe ricordiamo che lo spatial modeler è il tool che grazie agli strumenti grafici come sta dimostrando nell'uso del software è possibile concatenare una serie di operatori che quindi permettono di automatizzare dei processi di elaborazione delle immagini rendendo completamente automatico il flusso di trattamento dei dati. In questo esempio ho semplicemente fatto il punch-sharpening quindi ho fuso il dato panchromatico con alcune informazioni che venivano dal dato VUNIR ottenendo l'immagine che vedete qui in basso a sinistra. Quindi in qualche modo hai aumentato la risoluzione spaziale delle bande del VUNIR utilizzando il layer panchromatico. Sì quindi una fotointerpretazione di base giusto per capire un po' magari su che area stiamo lavorando. Chiaramente essendo il dato prisma un dato iperspettrale per ottenere il punch-sharpening abbiamo fatto una media dei valori di alcune bande. Quindi questo qua sono alcuni dei risultati alcuni esempi di risultati che si possono ottenere con il plug-in ma vi vado proprio a mostrare l'interfaccia di questo plug-in. Gli utenti che andranno ad installare questo plug-in avranno a disposizione due pulsanti aggiuntivi ai soliti presenti in Adassimaging quindi il primo pulsante è un pulsante di import che permette appunto di fare un import del dato H5 e in realtà fa anche un po' di pre-processing perché ad esempio uno degli output è un TIF che ha tutte le bande in un unico file e anche i valori sono già scalati in valori di riflettanza 0 a 1 è proprio pensato per chi vuole iniziare subito a lavorare sul dato in modo operativo quindi abbiamo questo primo pulsante vi dicevo di import il secondo pulsante permette di fare una valutazione delle bande su cui stiamo lavorando nella nostra zona di interesse per capire se ci possono essere degli errori o ad esempio bande che vogliamo rimuovere dall'analisi una volta quindi che abbiamo fatto questi fasi diciamo di import e pre-processing del dato si passa poi alla hyper-spectral workstation o spectral analysis workstation è proprio lo strumento integrato in Adassimaging per fare l'analisi di dati hyper-spettrali qui vado a mostrarvi un esempio di appunto di dato prisma analizzato con questo strumento qui possiamo eseguire una serie di operazioni ad esempio l'individuazione delle bad bands cioè scegliere quali bande per una serie di motivi vogliamo escludere dall'analisi qui come vedete io posso in modo molto intuitivo andare a rimuovere alcune bande dall'analisi tutte queste bande che vedete evidenziate di rosso o arancione rosso verranno escluse dall'analisi allo stesso modo posso fare sempre in questo strumento una subset che decidere di lavorare soltanto su una piccola area tutti questi non lavorare su tutto il dataset ma soltanto su una parte ad esempio su una città piuttosto che in mare eccetera all'interno di questa workstation troverete tutte le informazioni legate al sensore informazioni che associano al numero di banda la lunghezza e lo spessore in modo tale che il software sia in grado di processare i dati correttamente una volta quindi che ho importato il dato seguito una serie di step di preprocessing posso ad esempio andare a catturare delle firme spettrali facciamo qui per esempio sull'urbanizzato di nuovo quindi vedete qui che abbiamo una firma spettrale di questo pixel e posso costruirmi una firma spettrale che poi posso utilizzare nei task successivi cioè identificare su tutta l'immagine pixel che hanno una firma spettrale simile una volta che ho fatto tutti questi step di preprocessing posso andare ad eseguire una serie di task descrivo soltanto i task principali che appunto sono il riconoscimento di anomalie sull'immagine questo potrebbe essere un esempio andare a mappare gli impianti fotovoltaici su un territorio perché magari hanno una firma spettrale molto diversa appunto dai pixel vicini o andare a fare target detection cioè andare a individuare sull'intera immagine un materiale specifico e così via quindi ho una serie di task specifici che vengono applicati sull'immagine una volta che ho seguito una fase di preprocessing grazie Giuseppe e naturalmente questi dati dimostreranno sempre di più il loro valore quanto più riusciremo a utilizzare questi dati in combinazione con informazioni acquisite da satellite e da altre costellazioni io ringrazio tutti gli ospiti di questo incontro quindi Claudia Giardino del CNR Idea Luigi Agrimano di Planetech Giuseppe Maldera e ricordo quindi per tutti gli iscritti a questo webinar che potranno anche scaricare l'ultima versione di Earthbit che tra l'altro è stato recentemente aggiornato quindi anche chi ha scaricato le versioni precedenti può aggiornare la sua versione e per richiedere il plugin di Earthimagine è sufficiente mandare un'email all'indirizzo hexagon con l'h quindi hhexagon chiocciola planetech.it e provvederemo a mettere a disposizione il plugin a tutti gli interessati io do appuntamento a giovedì prossimo per un altro incontro dove torneremo a parlare di applicazioni dei dati e per spettrali Prisma quindi continueremo una carrellata di casi d'uso ringrazio i colleghi dell'Agenzia Spaziale Italiana e a nome di Planetech Italia a tutti appuntamento al prossimo incontro grazie e buon lavoro a tutti grazie ciao a tutti ciao ciao ciao